Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. La partita di domani è un altro scontro diretto, mancano 5 partite alla fine del giorno di andata. Abbiamo due scontri diretti con Napoli e Roma in casa, abbiamo 3 trasferte sicuramente difficili e complicate. Qual è l'obiettivo? È quello di fare più punti che sono stati fatti l'anno scorso nel giorno di andata. L'anno scorso la squadra ha fatto, se non sbaglio, 38 punti, non pochi, e quest'anno siamo a 33, mancando 5 partite. Quanto riguarda invece Locatelli, Locatelli sta bene, a parte UEA sono tutti recuperati. Domani deciderò uno tra Danilo e Alessandro. Alessandro è entrato molto bene, ma era tanto che era fuori lo stesso Danilo, quindi magari potrà essere che li spezzerò la partita ad entrambi. Siccome dopo la partita con l'Inter, dopo la vittoria con il Monza, giustamente c'è euforia, vengono scritte e dette tante cose e va tutto bene. La cosa invece per noi importante è questa, quella di avere ben chiari gli obiettivi. Diciamo che la Juventus nell'ultimo sette partite con Napoli ha vinto solo 21 volte. E quindi anche questo per noi è un altro obiettivo domani da poter raggiungere. Il Juventus sta bene, come stanno bene tutti. I rigori si sbagliano, gli sbaglia chi li tira, chi non li tira è difficile che li sbagli. Cambiano le annate, ma i giocatori del Napoli sono gli stessi, perché comunque hanno perso Kim nel ruolo di difensore, comunque è una scuola forte. Ma lo dimostra le prestazioni che stanno facendo e soprattutto lo dimostrano i numeri che hanno fatto in trasferta. Federico sta facendo bene, sta crescendo. Non scordiamoci che tre anni fa era ancora un giocatore di Lega Pro, quindi ha fatto passi dal gigante. Ora per lui viene il più difficile, perché confermarsi deve comunque migliorare come tutti. Ha la voglia e la possibilità di farlo. La voglia, il desiderio di poter vincere tutte le partite che giochiamo, confrontarsi con avversari importanti, avere degli obiettivi chiari davanti, questo è molto importante. Quindi domani sarà sicuramente una bella partita. Quando siamo nelle squadre che puntano al vertice, puntano uno dei primi quattro posti, quando sei alla Juventus devi saper convivere con la pressione, è il bello di questo lavoro. Vivere con la pressione addosso. Domani non finisce un campionato, non finisce una stagione, è ancora lunga. Ecco perché quando ho detto l'obiettivo numero uno in questo momento è cercare di arrivare sopra quella che era la quota dell'anno scorso e di giro di andata, che erano 38 punti. E quindi per farlo bisogna fare ancora tanto, perché ripeto, abbiamo due scontri retti e tre partite in trasferta. Quest'anno ci sono dei giocatori che l'anno scorso erano per il primo anno alla Juventus. Vedi Gatti che arrivava al Frosidone, Bremi che con tutto rispetto arrivava dal Torino, altri giocatori comunque che erano al primo anno di Juventus, in un'annata sicuramente non facile. Quindi tutte le situazioni aiutano a crescere se le vivi come un'opportunità di crescita. Ma non è rispetto all'anno scorso, perché quando ho detto che il primo obiettivo è superare la quota di 38 l'anno scorso, è perché l'anno scorso il giro di andata è stato fatto un buon giro di andata nelle difficoltà che abbiamo avuto.